Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Azzolot457 e oggi nuovo video di piante contro zombie Allora, oggi faremo la notte di livello numero 3, quindi iscrivetevi e lasciate un bel like anche se non vi piace il video Ehm, lasciate, iscrivetevi lo stesso, allora, livello 3 della notte Ok ragazzi, dobbiamo riavviare perché la sto facendo Allora, casa di Azzolot457, mettiamo questo, 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 questo E anche questo, perfetto, andiamo Oggi ho intenzione di fare di quattro strati, no come ho fatto ieri Stanno arrivando i zombie, rosa Ok, perfetto Morto Perfetto Ok, già abbiamo finito questo Ok ragazzi Perfetto Vai Perfetto Aspettiamo sta musica Musica, ok Riprendiamo, ok Perfetto Voi non l'avete sentito Voi non l'avete sentito la musica, io sì Dai Dobbiamo levare questa Prendiamo l'acqua Ok Mettiamo questa Ok ragazzi Perfetto Vai vai Dai Dai che ce la facciamo Ragazzi ce la facciamo Ok perfetto È cresciuta la prima pianta Ok ragazzi Vai raga Sta partita così semplice Non ho mai visto una Ok raga Sono cresciute quasi tutte Ok 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 morto Dobbiamo mettere questo qui Ok Perfetto 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 raga Sono cresciute tutte le piante dietro Ora Finiamo qui Ok Perfetto Ah ma se ce la vinciamo così Sì Ce la vinciamo così Sì Così sì Ce la vinciamo Non pensavo raga Che ce la vinciamo così Stanno arrivando raga Stanno arrivando raga Veniamo di farcela Dai raga Ce la facciamo Ce la facciamo raga Ce la facciamo Vai vai Ok Perfetto 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 Sì Ok ragazzi Per questo è tutto Ci vediamo in un prossimo video Ciao